Perrotta, più si avvicina il momento della verità, più sale la tensione, più siete preoccupati o più è semplice? Abbiamo superato un'altra finale, siamo riusciti a vincere la partita, quindi ora ne mancano quattro e cercheremo di vincere tutte e quattro. Domenica potete già festeggiare se dovessero verificarsi alcune cose, certo non dipende solo da voi ma dipende anche dall'Ascoli, succede sempre così alla prima occasione, pensi che sarà quella buona? Io penso che noi dobbiamo pensare soltanto a vincere la partita, gli altri risultati non ci interessano perché comunque dobbiamo pensare a noi. Io personalmente sono un po' arrabbiato per i tre gol presi sabato contro il Prato e quindi dobbiamo riscattarci anche se abbiamo vinto. La cosa bella è che non ci pensa più nessuno a quei tre gol presi perché adesso si guarda solo la classifica. Invece sbagliamo perché andiamo a Prato, dobbiamo andare con la testa giusta perché è una squadra molto ostica, non dobbiamo pensare di vincere il campionato o cose del genere, dobbiamo pensare a fare la nostra partita e a portare a casa il risultato, poi vedremo quello che succederà. Le difficoltà maggiori che pensate di trovare, quelle di una squadra che ha bisogno di punti? Sì, sicuramente ha bisogno di punti ma poi comunque ha due attaccanti molto bravi quindi non dobbiamo andare lì con la testa svagata, dobbiamo andare con la testa giusta e quindi in questa settimana dobbiamo preparare bene questa sfida. Correte il rischio di giocare in casa, questo lo sapete? Sì, sì, sicuramente il pubblico ci aiuterà però, ripeto, è una partita molto dura e non dobbiamo sottovalutarla assolutamente perché il Prato sicuramente ha dimostrato di essere una buona squadra anche all'andata quindi dobbiamo cercare di dare il massimo.